Sorpreso ieri pomeriggio dalla squadra Lupi, mentre in piazza delle Universiadi, davanti al Camposcuola di Picanello, spacciava droga ad alcuni soggetti. A finire in manette, il 22enne catanese Salvo Lagati, bloccato e perquisito, il giovane è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana e della somma contante di 210 euro, presumibilmente incassata dalla vendita della droga, che insieme al denaro è stata sequestrata, mentre l'arrestato, in attesa del rito perdirettissima, è stato posto agli arresti domiciliari.